...e Antonson, Diamante direttamente in porta e poi con i pugni dice di no consigli, va a riprendersi il pallone Diamanti, morbido dietro a Traino, arriva il cross di Perez, altissimo sul secondo palo e la deviazione vincente di Manolo Gabbiadini che non esulta, essendo cresciuto nell'Atalanta, il gol di Manolo Gabbiadini...